Nella splendida sala di Villa Nitti il convegno di presentazione Garum Nostrum, un progetto multidisciplinare di sperimentazione per la valorizzazione e promozione del pesce povero. A partire dalla suggestione del Garum, che i romani producevano sulle nostre coste, si è parlato di temi della pesca artigianale, del pesce povero, della tutela ambientale, della produzione agroalimentare e della sperimentazione gastronomica. A conclusione del dibattito, gli chef del gruppo di sperimentazione gastronomica hanno presentato i loro piatti con pietanze a base di pesce locale, erbe aromatiche e prodotti agroalimentari tipici, realizzate secondo la filosofia del progetto. Si tratta di un evento programmato da lontano che adesso vede concretizzazione e basa la sua tematica intorno a quella che è la creazione di un percorso programmatico, un percorso condiviso insieme ad altri attori del tessuto economico sociale, quindi organizzato sì dall'associazione di coordinamento di imprese di pesca, quindi noi pescatori, che però cerchiamo di tirare dentro le nostre visioni e soprattutto dentro i nostri obiettivi quello che è il tessuto economico sociale. Quindi i ristoratori e soprattutto gli enti scientifici che possono dare supporto in maniera chiara, in maniera produttiva ad un tavolo di costruzione di micro filiere, di filiere della pesca, col fine ultimo di dare valore a quello che è il nostro pescato locale e che da troppo tempo viene, come dite, lasciato in un angolo e non valorizzato. Parliamo di garum nostro, che cos'è il garum? Il garum è quell'antica salsa di pesce che veniva prodotta con certezza, con contezza, lungo la costa di Maratea e soprattutto sull'isola di Santo Ianni, i reperti storici e tutto quello che ne deriva lo testimoniano in maniera forte e quindi è quella salsa di pesce prodotta dai romani anche altrove, che da altre parti ha trovato, come dire, continuità nei percorsi storici. A Maratea ha vissuto un momento di stop che noi vogliamo rimettere in piedi, quindi centralità a quelle che erano le produzioni locali e quindi perché no al garum? Ci sono delle criticità naturalmente di aspetto sanitario, di aspetto tecnico, per questo motivo l'Associazione Pescatori Maratea si vuole servire appunto dei migliori menti pensanti del territorio e a livello ristoratore e a livello scientifico per mettere appunto in campo le migliori soluzioni affinché prodotti antichi che vengono da lontano e che magari vengono sottaciuti possano riprendere l'antico splendore e questo non lo diciamo noi ma lo testimoniano gli innumerevoli reperti storici ritrovati lungo tutto il periodo della Costituzione fino ai giorni d'oggi. Dopo questo evento dunque diciamo proprio la commercializzazione dunque di questo pescato che chiameremo garum? Perché no? Si parte da un'idea progettuale che è quella di dare una connotazione quindi con un nome e cognome che è il garum con un nome chiaro che è il garum per rivivere storicità e culture antiche per poi vedere cosa si può veramente fare di quel prodotto ittico che è al centro della questione. Quindi rivalutazione del prodotto ittico anche di tipo meno commerciale e quindi di minore interesse commerciale affinché si metta appunto a sistema nuove produzioni, quindi start up innovative a tutti gli effetti. Sul garum ci sono due riflessioni che si possono fare. Una riguarda la storia di Maratea che ci porta molto lontano. Tenete conto che il garum prodotto sull'isola di Sandoianni e a Castrocucco viene datato nel periodo tardo romano quindi i Marateoti erano i più grandi produttori di garum e nel Mediterraneo il nostro garum veniva venduto. Prova ne sono le ancore che sono trovate vicino all'isola di Sandoianni e le anfore che sono state trovate dal Ministero dei Beni Culturali sui fondali attorno all'isola di Sandoianni. Le anfore sono di tipo miceneo e quindi datate del VII secolo a.C. Le ancore sono con l'iscrizione greca e quindi ancora più antiche. Quindi Maratea è una storia nel Mediterraneo legata alla produzione del garum che è una elaborazione del nostro prodotto ittico del Golfo di Policastro. Per quanto riguarda l'altra riflessione bisogna dire che nell'antichità i cittadini di Maratea si sono sempre industriati e hanno avuto la capacità di produrre a livello industriale questo liquamen che deriva dalla manipolazione del pescato con le erbe aromatiche che veniva essiccato, messo nelle anfore e venduto all'interno del Mediterraneo. quindi la capacità dei Marateoti di fare, di industriarsi e di produrre. Questo è il nostro orgoglio e questa capacità la dobbiamo rendere attuale anche oggi.